con una donna più grande di lui, mettendo in crisi il rapporto con la moglie e con i genitori, quindi con la signora qui presente. È rimasta soddisfatta dell'aiuto del mago Letterius, infatti ora la situazione è tornata felice come un tempo ed è per questo che la signora Anna si trova qui. Come mai signora Dacomo è arrivata da Scolipiceno ad incontrare il mago Letterius, quindi un viaggio così lungo? Perché avevo provato tanti altri maghi e non ho risolto il mio problema, diciamo, con il ragazzo e si è con noi. Mi sono rivolta al mago Letterius ed ho risolto tutto il mio problema. Quindi è stato l'ultimo tentativo per risolvere la situazione familiare. E adesso come sta? Contentissima. Il grande specialista di alta magia è il mago Letterius che annienta il male ed è in grado di allontanarlo definitivamente. Alla presenza di questo benefico maestro rinascerà in te l'interesse per la vita e l'amore per gli altri. Studioso di parapsicologia, astrologo sensitivo, il mago Letterius è a tua disposizione per risolvere ogni tuo dubbio. Puoi chiamarlo al numero 338.